Ma lo sa che Rino mi parla sempre di lei? Bene, spero. Michele, ma chi è stato? Mi fai le stesse domande della polizia, Rino. Marina? Michele, molto piacere. L'aspetto fuori, amore. Allora, Michele. Allora cosa? Ve lo dici che ha sparato? Rino, l'ho detto tre volte. Non lo so, non lo so, non lo so. Ma come non lo sai? Ti ha sparato da un centimetro. Ma perché non gliel'hai detto alla polizia? Minchia, tu più cresci più diventi stronzo. Da uno che ti spara non lo denunci. Lo ammazzi. Ma che fai? Non mangi? Allora mangio io. E mangio. Ti sei innamorato di quella? Che buono questo riso. No, questo riso fa schifo. Ti sei innamorato? Fatto tardi, mi caro. Io vado io. È meglio. A me bene. Perché tu?